Ciao ragazzi, oggi siamo tornati qui finalmente con un nuovo bellissimo telecomando Ragazzi, a batte le cazzate, sono tornato qui con un nuovo video Ragazzi, finalmente, da tanto che non porto video, ma perché mi si è rotto il computer, non potevo più editare e robe varie Fare un video su questa cosa perché è troppo annoiativo Annoiativo? Si dice annoiativo? Comunque ragazzi, allora, io oggi sono tornato con un video, ma va, ma va Però ragazzi, non è un video comune, ma è un video, fidatevi, che è, ragazzi, non è una bomba, no 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 Siamo qui con un video reazione ai musical.ly più belli, ottico, come potete dire voi, come volete voi Appunto su musical.ly Quindi raga, non mi resta che dirvi buona visione E mi sembra che già abbia perso molto tempo, quindi Adios Ehi, la tua B è ottima Uh, Marco, eh È mutande, ragazzi, è tasto Eh, pure le caccia mona, brava, brava Per ora, niente male raga Niente via questa, però vabbè Carina Raga, niente male Ehi, ne io la chiero come tu Da ta, a cha, cu, lo e a ch E l'attitude euch, eva bus, car, punte, Lamine Eh raga, niente male Ehi, la mia quiero Eh, venite jola chero cómo tu Deta, esa cou... Buona tostra, non preoccupare Mi piace il cacciao Avete visto? Buon amissima, buon l'abbè Te lo metto in alborgini Questo è lo scelto io Un video breve Per far iniziare la serie Se vedo che questa serie vi piace Io posso continuare Tanto c'è youtube che mi dà i soldi Io posso continuare Tanto c'ho youtube che mi dà i soldi Magari compa non stare qua Tutto il mondo attorno a me Che mi sinchina Buttandomi i soldi Vabbè ragazzi Se voi volete Questa serie continui mi raccomando Lasciate un pollice all'insù Per il mio ritorno voglio minimo 20 like A 20 like Non solo Riporterò il video questa serie Ma Cercherò di far uscire un video a settimana O 1 o 2 video a settimana Quindi ragazzi Per questo è tutto Mi raccomando Come sempre Se non siete ancora iscritti al canale Iscrivetevi Seguitevi su Instagram Deflavis Trattino basso 21 Seguitemi anche su music Jacopo Trattino basso 777 Perché la gang non si infama A parte ragazze e ragazzi Noi ci becchiamo Al prossimo Te lo comando Bella ragazzi Grazie 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 Grazie